A bocce ferme, dopo un election day che ha regalato non poche sorprese e diverse conferme, è arrivato il momento per partiti e movimenti di tirare le somme del voto. In città si prospetta una mini-rivoluzione, soprattutto all'interno dell'attuale compagine amministrativa e dentro le segreterie cittadine e provinciali. Inevitabile fare il punto sui promossi e i bocciati, ed è anche il momento delle riflessioni. Nove candidati a Gela per le regionali portano in dote un solo eletto, il grillino Nuccio di Paola, e una dispersione di consensi utile solo a serili prove muscolari dei vari gruppi politici in vista dei prossimi riposizionamenti. Inutile negare che per molti il dato elettorale, anche se inutile ai fini del seggio, si trasformerà in un ticket da spendere per le prossime amministrative nel 2024 o forse prima. Incarichi di prestigio o leadership dentro il partito. Ma partiamo dai vincitori. Nella compagine di centrodestra, che di fatto ha vinto le elezioni, nel Collegio Nisseno spicca l'espload del riconfermato Michele Mancuso da Milena. Per lui 8.160 voti personali e Forza Italia, primo partito in provincia con 14.370 preferenze. La Cirrone Cipolla è seconda con 4.594 voti e Toto Sammito terzo con 1.616. Gli azzurri sono il primo partito in provincia, ma Mancuso, di mezza in città, il capitale di voti raggiunto nel 2018. Sempre a Gela, subito dopo gli azzurri, ci sono gli autonomisti di Lombardo, che sfondano quota 8.8.416 con il medico Rosario Caci a 3.514 voti. Insufficienti per fare scattare il seggio, nonostante lo spiegamento di forze di assessori e consiglieri comunali di maggioranza, che però non è servito per tagliare il traguardo, visto che all'Assemblea regionale scendrà invece il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. Meloniano dell'ultima ora, forte dei suoi 4.520 voti. Sempre per Fratelli d'Italia, invece, nulla da fare per il gelese Toto Scuvera, che si ferma a 2.585 voti. Il partito nel collegio arriva invece a 8.279 preferenze. Gongola anche Nuccio Di Paola, quarto come candidato presidente, ma eletto grazie a 3.762 voti ottenuti in provincia. I grillini si fermano a 5.638 voti complessivi. Va male per il Partito Democratico, che dopo 30 anni non riesce a piazzare un deputato regionale nel collegio. Il segretario provinciale, Peppe Di Cristina, se la gioca testa a testa con Catania fino all'ultimo voto, ma alla fine deve cedere il passo. Gli resta la palma del gelese più votato nel collegio, con 3.897 voti, di cui 1.596 a Gela. Un risultato che però apre un necessario confronto tra i dem, che nelle prossime settimane troveranno sul tavolo del congresso proprio le dimissioni del segretario provinciale. Tra i bocciati è anche la Lega di Salvini. Il dottor Roberto Alabisso si ferma a 1.103 voti, mentre conferma di avere un pacchetto di voti solido, malgrado gli anni che passano, Pino Federico. La DC di Cuffaro ottiene 7.293 voti con l'ex presidente della provincia, che chiude con 3.110 preferenze, insufficienti per scalzare Di Paola oppure Catania. Le tre liste di De Luca superano complessivamente 4.400 voti, con il gelese Piero Maniglia fermo a 92. Il terzo polo di Calenda, con Carmelo Migliore invece, a differenza dei primi dati comunicati decisamente inferiori, arriva a 1.867 preferenze. In ambito nazionale godono i Cinque Stelle, che piazzano due senatori, il riconfermato Pietro Loreficio e la Nuentri Chettidamante. Un risultato storico anche per la città, frutto anche di una serie di combinazioni positive. L'avvocato Emanuele Maganucco ottiene un ottimo risultato personale, insufficiente per contrastare l'effetto trascinamento che ha portato all'elezione nei collegi uninominali di Michela Vittoria Brambilla e Stefania Craxi. Adesso lo sguardo è rivolto a Palazzo di Città. Senza due assessori e con almeno uno, forse due, in uscita, il sindaco dovrà fare i conti con la crisi interna, con una buona idea e la nuova DC, e soprattutto con il successo di Forza Italia, che andrà a rivendicare più presenza in giunta. Un quadro più che complicato, resa ancora più difficile dal coming out politico di Greco verso il neopresidente Schifani nel corso della campagna elettorale. Sarà giunta politica a trazione azzurra, con uno sguardo agli ex nemici di Fratelli d'Italia o della Lega, o come ormai si mormora tra i corridoi di Palazzo di Città, prenderà a piede l'idea di chi si sta attrezzando per una mozione di sfiducia che potrebbe già arrivare entro fine ottobre? Ci si gioca tutto sul filo di lana e stavolta il sindaco non potrà più mantenere il ruolo da temporeggiatore.